Durante la campagna elettorale Melogli aveva avvertito Castrataro a Palazzo San Francesco. C'è una situazione esplosiva per quel che riguarda il personale, travertenze, procedimenti giudiziari, denunce ed esposti. E la conferma è arrivata puntuale con il comunicato della CISL, funzione pubblica che convoca per domani un'assemblea del personale parlando di competenze non pagate e addirittura di mobbing nei confronti di alcuni lavoratori. Insomma una bomba pronta di esplodere. Che sta succedendo a Comune di Isernia dove di fronte a giunte dirigenti che hanno portato i loro stipendi al massimo, l'esecutivo addirittura retroattivamente, ci sono i lavoratori che lamentano maltrattamenti e mancati pagamenti? Una pentola pronta a scoppiare o solo le solite proteste sindacali? Nel suo documento la CISL punta il dito contro lavori extra non pagati, progressioni economiche orizzontali non retribuite, penalizzazioni, discriminazioni sul posto di lavoro e per finire la denuncia di mobbing nei confronti di qualche lavoratore. Domani dalle ore 11 alle ore 13 facciamo questa assemblea del personale perché è da tempo che il personale si lamenta giustamente perché le cose non vanno bene, che comunque si trascinano dagli anni precedenti, dalle amministrazioni precedenti e vogliamo sollecitare questa amministrazione nuova che si fa per dire nuova ma ormai sono già diversi mesi che c'è a risolvere queste problematiche del personale. Abbiamo notato che il personale dirigente, il personale apicale del comune, il segretario comunale si portano normalmente al massimo le loro indennità e nulla a questo, noi non possiamo eccepire nulla, però notiamo che al personale dipendente questo trattamento non viene riservato o meglio vengono penalizzati perché vengono pretesi da loro delle prestazioni lavorative anche extra e non vengono pagati. E lei parla anche di mobbing addirittura, che succede a Palato San Francesco? Ecco anche questo, purtroppo questa situazione di mobbing voglio precisare che già negli anni passati è stata accertata anche dalla magistratura e purtroppo al comune di Sernia purtroppo questo fenomeno del mobbing persiste ancora perché io come sindacalista posso dire che effettivamente c'è una situazione di mobbing, di demanzionamento, di stalking e anche altro purtroppo lo devo dire perché è così.